Il procuratore generale poteva anche autorizzarla ad incriminare Don Nitto e così avrebbe potuto risparmiare un volgarissimo spargimento di sangue. Uno spargimento voluto da chi? I misteri della politica sono assai più profondi di vera della mafia. A Roma Don Nitto aveva qualche vecchio conto da riscuotere e lo ha abbonato morendo. Don Ferdinando, per favore, non parli per indovinelle. Mi perdone, questo è un mio vecchio divertimento. Signor procuratore, il suo processo non approderà niente. Vincenzo Coluzzi...